benvenute allora oggi sfogliamo insieme l'album del libro che numero 13 che valido fino al 25 ottobre 2017 vedrete che ci sono tantissime promozioni e per la cura del viso per un rientro e per una remise in forma perfetta e poi perché con le cambio di stagione è sempre utile fare un attimo un trattamento d'urto tante promozioni tante omaggio in base all'acquisto davvero guardate tutto l'album è stata abbastanza chiara spiegarlo perché davvero un album wow e ora iniziamo a sfogliarlo allora eccoci vediamo subito le novità doppia azione antietà più detox della nuova linea elixir jeunesse ma ora ve la mostro nel dettaglio eccola qua la nuova linea elixir jeunesse doppia azione antietà più detox all'azione efficace antietà per riparare la penne e diminuire le ulche e anche l'azione detox perché anche inquinamento ed effetto barriera vediamo ora tutta la linea però prima di mostro una promozione perché ogni 15 euro di acquisto della linea antietà che oltretutto questo mese sono scontate fino al 40 per cento si è in omaggio al siero il formato speciale della stessa linea quindi scegliete una linea 15 euro e avete in omaggio al siero della linea che avete scelto vediamo comunque ora la novità eccola qui che vi parlavo elixir jeunesse che comprende tantissimi prodotti intanto vi ricordo che scontata e abbiamo l'acqua micelare detergente anti inquinamento oppure la maschera flash ossigenante abbiamo siero doppia azione che ripara più l'azione anti inquinamento barriera oppure rollo nocchi eccola qui riparatore più anti inquinamento tutto quanto senza silicone olio minerali e parabeni ovviamente e abbiamo anche la prima promozione perché vi mostro il trattamento notte eccolo qui che è la sleeping care riparazione anti inquinamento e l'azione giorno eccola qua quella per la pelli da normali a mister si possono acquistare singolarmente al prezzo 19,95 quella notte o 17,95 quella giorno ma acquistandole in combo quindi sia la giorno che la notte la giorno la pagate sempre 17,95 mentre la notte la andate a pagare in promozione 16,17 quindi davvero una buona promozione per avere tutti i due prodotti ora andiamo avanti sempre scontato c'è anche la linea rich cream eccola qui stessa cosa di promozione con il trattamento notte perché acquistando benetica giorno in notte la pagare solo 16,17 in più ogni 15 euro sia anche in maggio il mini siero della stessa linea vediamo ora una promozione una novità scusate della linea rich friend che è il detergente senza schiuma adatto per pelli come posso dire e ultramutriente adatti per le pelli pesigenti ecco perché ha una texture in crema olio senza schiuma che strucca detergente le pelli pesigenti c'è lo aspetto in tutta delicatezza ovviamente senza oli minerali profumo sono fatti parabellini altre promozioni tra linea anti esglobal ecco quella qui stesso discorso dei trattamenti acquistando il giorno in questo caso potete scegliere quello normale oppure quello a crema fondamentale giorno per la pelle secca e in notte non ha che pagare meno quindi 22,20 invece di 26,50 sempre con i 15 euro con il siero di maggio altra linea la serone vegetale eccola qui sempre stesso discorso acquistando in combo la giorno o la notte oppure dividete come volete eccola qui la ride per me te invece stesso discorso ma potete scegliere il giorno tra il trattamento di polpante con protezione 20 oppure il trattamento di polpante giorno e notte sempre in combo sempre a prezzo vantaggioso eccole qui abbiamo anche la serone vegetale con le ride lifting stesso discorso di tutte le altre lifting bio sempre stesso discorso quindi il giorno e notte lo pagate meno ancora più scontato e poi c'è la linea zero default ok fino a qui con 15 euro di acquisto e si ha in omaggio il siero il minisiero in Italia del trattamento che avete scelto ora iniziamo un'altra promozione eccola qui che dice di essere adatta a chi non acquista trattamenti anti età perché il regalo di 15 euro da questa pagina fino a tutto il catalogo sia in omaggio un trattamento anti età nel formato speciale e potete scegliere tra la crema fondamentale giorno della linea anti età oppure il nuovo strutturante giorno per pelle da normale a miste della linea ex regiones tra tutti i prodotti da questa pagina fino a fine catalogo vediamo ora la novità per la cura dei pepelli perché finalmente è arrivata la maschera protezione e luminosità e questo trattamento questa linea c'era già il shampoo e il balsamo e quindi era wow che c'è finalmente anche la maschera perché intanto ha una formula senza silicone coloranti parabeni molto importante e poi adatta per i capelli colorati perché il biancospino che è la e la pianta trattante di questo di questa linea ha le proprietà protettici della fibra capillare quindi è adatta per i capelli colorati perché li rende luminosi e resistenti e soprattutto prolunga la tenuta del colore spero di essermi fatta capire vediamo vediamo ora la promozione della linea eccola qua albicocchio rosmarino delle plese nature perché si ha il detergente e l'acqua profumata faccio vedere meglio allora il set da 9,95 si comprende detergente e profumo bagno doccia a 200 ml e acqua profumata e narcizzante da 100 ml oppure il set di due gel idratanti e narcizzanti da 200 ml l'uno sempre a 9,95 vediamo ora la novità profumo il nuovo profumo We All Amore è un eau de parfum intanto in promozione 50 ml a 27,95 ed ha un'essenza di angelica rosa damascena, tavatonca e legno di cedro quindi è femminile ma non dolcissimo non di quei stucchevoli ma comunque si chiama nota molto femminile sono curiosa di sentirlo, lo ammetto altra novità è quella qui con i trend di stagione e guardate già solo qua ok, ve lo mostro meglio questa è la novità, la palette colore vegetale è la palette 19,95 si può scegliere tra il colore che ho mostrato prima quindi nude e se lo guardate bene o non ho tanto anch'io assomiglia tantissimo alla naked oppure il secondo colore è quello qui è lo smokey, più su toni del grigio e sono due colori perfetti per l'autunno ultima promozione è quella che ve la mostro il set struccante rapido occhi bifasico e sapete che io lo adoro 9,95 si ha la confezione grande da 200 ml più una confezione piccola da 100 ml perfetta da portare fuori casa e questo era tutto l'album che finisce qui e vi ricordo che fino alla fine del catalogo ogni 15 euro si ha a scelta in omaggio il trattamento viso allora eccoci abbiamo sfogliato tutto il catalogo vi ricordo come sempre che qui sotto nell'info box trovate tutti i contatti per le informazioni e per gli ordini e poi c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo il formato pdf sul vostro dispositivo multimediale tra computer, tablet e smartphone quello che volete e come sempre vi ricordo che sono sempre disponibile e vi ricordo anche che tra poco sarà online il catalogo di Natale troverete sicuramente il link ma mi raccomando per sbirciare anche questo sembra presto lo so ma non è mai presto per queste bellissime promozioni e non mi resta che augurarvi buoni acquisti e attualmente perfumati con il magico attore al mondo VIVOR SHIP VIVOR SHIP